Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia anniversario per i 120 anni dell'Atletico Madrid per la stagione appena conclusa, in edizione FAN. FAN. La maglia è molto bella e richiama quelli che erano i colori, diciamo di una volta, dell'Atletico Madrid. Nella mia classifica prende 4 stelle, fatta sicuramente molto bene con ogni dettaglio al posto giusto. Il costo lo trovate qui sopra, veramente molto basso, se considerate che comprende anche le spese di spedizione. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Mi raccomando trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi diventa ancora più vantaggiosa. Ora vi lascio la parte finale, prima però lasciateci un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao. 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 Grazie a tutti.